Un augurio affettuoso a tutti voi, uomini e donne d'Italia, che vivete e operate in patria e all'estero e in particolare a quanti servono da lontano la nazione, in suo nome anche rischiando la vita come nelle missioni di pace intormentate aree di crisi. Mi rivolgo a voi questa sera nello stesso spirito del mio primo messaggio di fine anni. Fanno bene i giovani a preoccuparsi, dall'altra parte hanno ragione, si preoccupano del loro avvenire. Noi siamo al tramonto della nostra esistenza. Loro hanno dinanzi a sé tutta una vita e hanno ragione di volere vivere in pace la loro esistenza, che non sia turbata. Quindi in merito anche, direi e soprattutto, del popolo italiano che ha dimostrato questa forza, questa volontà di difendere la democrazia nel nostro paese, che ci è costata tanto. Quanti sacrifici, quanta lotta abbiamo dovuto sostenere e anche quanti morti abbiamo lasciato sul nostro cammino per riconquistare la libertà perduta, per riconquistare la democrazia nel nostro paese. Italiani e italiane, voi siete adesso a tavola. Oh, se fate un brindisi, fatelo anche per il vostro presidente, che vi ama tanto. E cercate sempre di stare vicino ai vostri figli, ai vostri giovani che si affacciano adesso alla vita. Io ai giovani questo io dico, è martello su questo punto, costituiscono l'avvenire del popolo italiano. Battetevi sempre per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale. La libertà senza giustizia sociale non è che una conquista fragile, che vale, che si risolve per molti nella libertà di morire di fame. Bisogna che la libertà sia unita, la giustizia sociale, sono un binomio inscindibile. Lottate quindi con fermezza, giovani che mi ascoltate, perché lottate in questo modo per il vostro domani e per il vostro avvenire. Grazie. Grazie.